Volutamente ho messo la foto in Facebook dicendo che il nostro sistema di videosorveglianza identifica moltissimi di loro, per dare loro la possibilità di venire prima di tutto a scusarsi e poi anche a chiedere aiuto, perché a parte dei ceffoni che io se fossi genitori darei, ma sono sicuramente ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati. Come sempre non le manda a dire Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto, alle prese con gruppi di minorenni che fra vandalismi, schiamazzi e comportamenti scorretti stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini. E proprio grazie ai suoi concittadini la sindaca è riuscita a identificare alcuni dei giovani. Abbiamo trovato su segnalazione dei ragazzi, li abbiamo identificati, che uscivano dal cantiere dell'asilo che stiamo ristrutturando. E questo gruppo è anche il gruppo che si raduna, sono molti di più, vengono anche da altri comuni, nello stabile di Fontallegra, con atteggiamenti molto pericolosi per loro perché abbiamo fotografie che camminano sul cornicione e quant'altro. L'amministrazione ha avvertito subito i proprietari dell'edificio, ma a destare preoccupazione non sono solo i comportamenti a rischio da parte dei giovanissimi. La parte che ci preoccupa di più però sono sicuramente gli atti di vandalismo all'interno del parco e il comportamento che questi ragazzi hanno nei confronti degli adulti, delle mamme, che li fermano per dire che certe cose non si fanno oppure che certi schiamazzi non si fanno. Ieri hanno fatto scoppiare dei petardi vicino a dei bambini e quindi proprio azioni incommentabili. La sindaca ricorda come il centro sia completamente videosorvegliato e invita le famiglie e gli stessi giovani a farsi vivi per un colloquio. E ripeto ancora a loro e ai genitori che sicuramente li hanno riconosciuti, le porte della nostra Polizia Municipale sono aperte per un colloquio.